Si è concluso con 158 anni e 11 mesi complessivi di carcere il processo apocalisse che con diversi blitz effettuati dalla polizia tra il giugno 2014 e il febbraio 2015 decapitò i clan palermitani di San Lorenzo, Resultana, Acquasanta e Partanna Mondello. 26 boss nel mirino dei giudici che hanno scelto il rito ordinario, accusati di estorsione o di aver ricoperto il ruolo di prestanome all'interno delle rispettive cosche. Tra loro anche l'ex politico Giuseppe Faraone che dovrà scontare quattro anni e mezzo di carcere. La richiesta inizialmente avanzata dai PM Anna Maria Picozzi, Amelia Luise, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia ammontava 276 anni di carcere complessivi ma la sentenza della quarta sezione del Tribunale di Palermo presieduta da Raffaele Malizia ha accolto solo in parte le richieste della Procura facendo scattare 17 condanne, 5 assoluzioni e stralciando diverse posizioni. Condanne più pesanti inflitte a Salvatore Caruso che dovrà scontare 17 anni e 10 mesi, Salvatore D'Urso e Sebastiano Filingeri entrambi condannati a 16 anni e ad Ignazio Di Maria, Camillo Graziano e Agostino Matassa a 15 anni ciascuno. Assolti dei capi di imputazione Alessandro Chiovaro, Salvatore Buccafusca, Benedetto Alerio, Ivana Delisi e Michele Pillitteri. Per Benedetto Alfano, Carmelo Cusimano, Fabio Gloria e Ciro Guccione invece il giudice ha rimandato la decisione al 4 luglio. Intanto un'altra tranche del procedimento già definita in abbreviato in primo grado condanna 82 imputati ad oltre 500 anni di reclusione complessivi.